Grande successo per la terza tappa del campionato Time Attack Sicilia a Racalmuto con oltre 70 partecipanti in pista. L'evento sta andando a gonfie vele, questa è la 14esima edizione di questo campionato Time Attack Sicilia. Come sempre tantissime auto, tantissimi amici che ci raggiungono da Malta, dalla Calabria e ovviamente gli amici siciliani. Siamo circa 80 macchine, come sempre è un parterre di veicoli molto ampio, si va dalla semplice utilitaria alle supersportive e alle autoresing. Ancora una volta la pattuglia maltese porta a casa il miglior tempo con Joan Spiteri che a bordo della sua Mitsubishi Evo ferma il cronometro a 1 minuto 9 secondi e 107 millesimi. A seguire il connazionale Daniel Montebello su un Nissan GT-R con il tempo di 1 minuto 10 secondi e 159 millesimi. A completare il podio Sergio D'Arrigo su BMW M2 ha solo un mezzo secondo di distacco dal secondo classificato. È andata abbastanza bene ma avevo un po' di problemi nell'ultima sezione. La macchina si comportava bene, è un motore nuovo e stiamo ancora svolgendo un po' di tuning sul motore. Anche una presenza femminile in pista, Federica Montalbano, che porta la sua Mercedes classe A di categoria stock sul podio della propria categoria con il tempo di 1 minuto 27 secondi e 150 millesimi. Sono contentissima del mio risultato, della mia seconda gara qui al Time Attack di Ragalmuto e insomma essendo l'unica ragazza spero che qualcuna prenda il mio esempio e si presenti qui in pista.